Sì, via! E' un assassino! E' un assassino! E' un assassino! La valigia! Dove sta la valigia? Mi chiede il morto! Datemi la valigia! Ve la dovete dare! Ci dico la medicina! Capitano, voi dovete capire! La settimana scorsa l'hanno ammazzato, l'ha puntato dei carabinieri e l'hanno ammazzato i terroristi! Era di qua, era del paese! Era il fazielo di Mento! Qui è brava gente, ma bisogna anche capire il dolore, la rabbia... Capisco, capisco tutto! Ma adesso chiamate un medico! Subito! Uno, uno, abbraccio! Capitano, io per voi non conto proprio niente all'altro! Vi preoccupate di lui? Lui è ammirato e l'ha givigliato! E voi di lui vi preoccupate?